Basta scaricare un'app e al costo di 1,29 euro per il primo minuto e 29 centesimi per i minuti successivi sarà possibile spostarsi in città a bordo di un motorino elettrico. È stato presentato stamani a Pescara il nuovo servizio di scooter sharing che va ad aggiungersi ai monopattini, alle bici e alle auto elettriche per una mobilità sostenibile. L'iniziativa sarà sperimentata per i prossimi 18 mesi. Completiamo l'offerta per tutta la città di mezzi alternativi alle auto, di mezzi in sharing. Pescara è un caso, credo che città di medie dimensioni come Pescara in Italia non abbiano l'offerta che ha Pescara sotto questo punto di vista. È uno standard europeo di pari passo con le tematiche su cui siamo impegnati, su cui sono impegnate le città, quelle di creare comunque alternativa alle auto e offrire ad un'utenza che è interessata a questo tipo di mezzi la possibilità quindi con costi ridotti e contenuti di muoversi in città non con l'auto, non avendo l'assillo del parcheggio, non inquinando, ma utilizzando biciclette, monopattini, auto elettriche, auto ibride e oggi queste bellissime moto elettriche che presentiamo alla città e presentiamo all'informazione. In totale saranno messe a disposizione degli utenti 50 moto elettriche. Questi mezzi tra l'altro sono molto belli, sono full electric dotati di casco e riservati agli maggiorenni, quindi ai diciottenni che siano in possesso di patente quindi anche l'aspetto della sicurezza viene curato in ogni dettaglio e tra l'altro la componentistica elettronica di queste moto consente anche un controllo da remoto sul corretto comportamento da parte dell'utilizzatore per quanto riguarda l'utilizzo del casco, per quanto riguarda anche il posizionamento delle moto perché il sistema è quello free floating come quello delle biciclette e dei monopattini e quindi non possiamo assolutamente creare disordine nella nostra città.